benvenuti in una puntata di fanny moon quest'oggi con un condottore nuovo nuovo di pacca che ve lo presento buonasera conduttore sera lei si chiama federico e si promuove come che vuole fare da grande nuova economia e dal look mi pare che sta andando devo fare complimenti a voi direte oro vedo che investite in quello che sono le nuove leve e questo vi fa onore sicuramente complimenti mengrelli complimenti a tutta la redazione di fanny moon diciamo che noi siamo sono anni che diciamo che sei un conduttore una conduttrice fatti avanti contattandoci al numero telefono che uno si è fatto avanti e abbiamo trovato avanti perché ti tarotano se no fatto avanti perché fanny moon è on the road e on the road vuol dire su strada e volte capita l'autobus dietro allora sta per partire fanny moon in compagnia del nostro nuovo conduttore bello del zio anche in compagnia di erzor sauro sinapi sì in arte quattro tacche un nuova economia come suggeriva il artes e quattro tacche lui nuova economia che nuova sta crescere perfetto cosa vorresti dire ma è che tu ormai dai lì è di quasi navi lei allora se volete contattarci fanny moon come si fa a contattarci come si fa un punto fanny moon punto it no se no c'è il cellulare che è 333 e c'era dove va naviga sul sito quello blu con la f come si chiama facebook bravo su facebook e scrivete a fanny moon lo trovate mettere un bel mi like che ci piace rice pollice a sbordi a dir quanti pollici hai preso il buco del pietro quattro pollici e ma riesce a vedere i miei siani quattro pollici bene pollicetto pollicetto allora a parte le bande ciance voglio dirvi che se vuoi invece e usare il metodo quello più costo gli sms o whatsapp whatsapp anche whatsapp abbiamo e allora ci siamo tecnicizzati si 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 bravo vuoi whatsappare numero telefono eh 333 poi pensaci te 333 333 basta sono 333 333 333 869 869 guarda 3 bravi va bene va bene se volete contattarci mandateci qualsiasi cosa anche perché noi cerchiamo artisti e cerchiamo anche artiste perché gli artisti sono maschi no ma lo dico per le 9 lei si capisci capisci si è vissuto tutto lei va bene fare il muro sapere partire state con noi adesso c'è una cosa che è di ladù di sommario guarda guarda qua è di sommario 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 chi sei guarda qua è di là